Nella base militare di Contrada, Sughereta, Niscemi sono ripresi tra le proteste i lavori per il completamento del tanto contestato MUOS, il sistema di comunicazioni satellitari delle forze armate statunitensi. Lavori che ripartono dopo che il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, ha revocato in autotutela il provvedimento con il quale aveva sospeso i lavori, dopo che il TAR aveva dato ragione al Ministero della Difesa. A darne notizia agli attivisti del comitato MUOS che nella loro pagina Facebook hanno pubblicato un video che mostra gli operai al lavoro e hanno postato la frase «le gru stanno alzando i basculanti della terza parabola» e poi l'appello «chi può vada a Niscemi, molti sono già lì». Così gli attivisti si sono mobilitati alzando delle barricate lungo la strada di accesso al sito per fermare il transito dei convogli militari. Presenti sul posto anche i presidi della polizia e dei carabinieri pronti ad intervenire in caso di incidenti e tafferugli. Solo pochi giorni fa era stata abbattuta la barricata del presidio permanente degli attivisti realizzata nell'intento di impedire il passaggio dei mezzi pesanti. Dopo l'abbattimento, infatti, nella base sono entrati camion che, come riportato dagli attivisti presenti, trasportavano filo spinato, generatori di corrente e altri materiali. Intanto, dopo 31 giorni di occupazione della ola consigliare, il comitato MUOS ha deciso di occupare una nuova sede, un ufficio del comune di Niscemi. Se da un lato il Consiglio Comunale si è dimostrato sordo e incapace di dare delle risposte al movimento e ai cittadini, afferma un portavoce del comitato, ancora più indegno è stato il comportamento del sindaco, che nonostante a parole si sia sempre dichiarato no MUOS, è passato al contrattacco nei confronti del movimento. Non solo non ha accolto nessuna delle proposte del comitato, ma ha concesso l'utilizzo delle ruspe, mezzi appartenenti al comune di Niscemi, per distruggere le barricate presenti in contrada a Ulmo. Finché c'è il minimo spiraglio noi andremo avanti, a prescindere, a prescindere, noi il MUOS non lo vogliamo, metteremo in campo tutto quello che è possibile, domani il sindaco incontrerà i suoi legali e finché c'è un minimo di spiraglio noi lo porteremo avanti, su questo non faremo un passo indietro.